Buonasera a tutti, se cominciamo a giocare in franci, dopo due anni ci prendiamo a vivere la processione della maggioranza. Io non ho raggiunto le vede se non desiso applicare la processione della chiesa, e noi chiamo una chiesa, della chiesa in cammino, una chiesa in cammino, la chiesa che cammina è una chiesa che va in messa alle persone, una chiesa che è una chiesa che va in messa alle persone, non ha più di più di più, non ha più di più di più, non ha più di più di più, non ha più di più. Dicevo che la chiesa che cammina, una chiesa che cammini è una chiesa che va in messa alle persone, quindi io stavamo che ho scelto di attraversare, giurare altre persone, e vedremo i diversi dati, perché il resto da parte ci devono dare, e questo giusto che la madonna va in mezzo alla gente, e accoglierà i nostri stiliere, le nostre sofferenze, le nostre chiesse, i nostri progetti. Acquiviamo la processione in questa maniera, senza altro che si grazie, e senza altro che ci sarà vicino, camminerà in siena. Adesso iniziamo con il canto, l'incentrazione che gli stanno un po' di più, non ha più di più. Allora, vediamo il canto. Allora. A presto. Grazie. 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 Grazie.